Muoversi. Infomobilità in Campania. Per lavori segnaliamo carreggiata ridotta nel tratto compreso tra il casello di Castellammare di Stabia della 3 Napoli-Salerno e lo svincolo Castellammare-Ospedale in direzione Sorrento. Sulla tangenziale di Salerno per lavori attivo le restringimento di carreggiata tra le uscite San Leonardo e Mariconda in direzione Fratte fino alle 6 di lunedì 18 giugno. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore. Grazie a tutti.